Un palazzone in periferia di otto piani, un ascensore che si ferma al sesto quando funziona e un ragazzo disabile costretto in casa. E' la storia di Matteo, un nome di fantasia, un ragazzo foggiano che vive con i suoi quattro fratelli e i suoi genitori nelle abitazioni dell'exompi a Foggia. Un palazzone con le sue tante criticità struttulari, tra cui proprio il disagio di un ascensore quasi sempre guasto e che quando funziona arriva però solo al sesto degli otto piani. costringendo i genitori a portare a spalla il proprio figlio. Che non funziona, non arriva all'ottavo piano. Arriva fino al sesto piano. Al sesto piano poi devo fare due piani a piedi. E magari quando si rompe, che devo iniziare da giù, devo portare il mio figlio in braccio con il carrozzino fino all'ottavo piano. C'ho otto piani, insomma si blocca pure, certe volte quando funziona si blocca alcuni piani. Io non ce la faccio più. Una situazione ben nota è per la quale il padre Luigi chiede un intervento immediato che possa aiutare il proprio figlio a vivere una vita come i suoi quetanei. La famiglia vive alle exompi da quattro anni e da allora hanno sempre denunciato le difficoltà e i disagi della casa. Mura sempre impregnate di umidità che costringono Luigi ogni mese ad impiancare a spese proprie casa per evitare malanni e malesseri di stagione ai propri figli. Per questo Luigi e sua moglie lanciano un appello disperato e accorato. C'è i problemi dentro, per evitazione dell'acqua, che si fanno i soffitti neri, si fa il pantano dell'acqua vicino alla parite, che è la camera da letto. Vicino alla parite si bagna la parite. Cioè i miei figli stanno sempre malati, sempre con raffreddore, tosse, problemi respiratori, certe volte, senza gas, senza riscaldamenti. Cioè voglio dire, io non posso campare in questa maniera qua. Allora io, io, io voglio chiedere un alloggio popolare. Vogliamo il diritto, io ho il diritto, ho 5 bambini, io ho il diritto al 100%. Allora io, io ho il diritto al 100%